Alternative non esistono o falliscono i comuni oppure l'alto calore. I soci questo pomeriggio prenderanno atto delle difficoltà dell'ente. De Stefano, presidente di Missionario, ha tuttavia studiato il piano di rilancio. Un piano di ristrutturazione che prevede investimenti della regione per 20 milioni all'anno per i prossimi tre anni, prepensionamenti ed esuberi per circa 100 addetti, l'aumento di capitale che i comuni dovranno sottoscrivere per circa 20 milioni in cinque anni. Con la riforma Madia e De Stefano di Missionario dovrà essere nominato anche il nuovo amministratore unico, ruolo che in via temporanea assumerà il presidente del collegio dei revisori, Ciarcia, che potrebbe anche essere nominato al vertice con un voto pieno dell'Assemblea. I dubbi non mancano sui futuri assetti. La provincia potrebbe astenersi, il comune di Avellino votare contro il piano aziendale. La decisione passerebbe comunque a maggioranza e non sarà una decisione banale. Senza un accordo di rilancio la regione potrebbe addirittura tirarsi indietro. L'ingresso di società miste pubblico-private è comunque un'ipotesi che resta in piedi, che a parole sindacati e sindaci sembrano voler scongiurare ma che nei fatti potrebbe risultare l'unica soluzione praticabile a stretto giro se dovesse venir meno uno dei tre perni dell'accordo, soldi della regione, esuberi e aumento di capitale. Certo nel lungo periodo la regione sarebbe chiamata ad espletare una gara su base europea. Una soluzione anch'essa da non scartare che potrebbe verificarsi in tempi rapidi nel caso in cui lo scontro fosse totale. Ancora poche ore e si capirà se il malato alto calore sia destinato al trapasso o a una lunga terapia di riabilitazione. Per quella serve ossigeno ovvero fondi in cassa. Alternative non ce ne sono.